Se credete di aver avuto una giornata storta, pensate al povero Sepe. Siamo all'ottantasettesimo e c'è un rigore per la Cremonese. Tira Ciofani, para Sepe e ribatte in gol Castagnetti. Il gol però è annullato, il rigore è da ribattere perché Castagnetti entra prima in aria. Ritira Ciofani che questa volta cambia lato, ma Sepe la riprende. In questo caso però sulla ribattuta è lo stesso Ciofani a segnare il gol. Due rigori parati ma gol del 2-2 che è arrivato comunque. Più di così il portiere della Salernitana non poteva fare.